Sale la tensione in Medio Oriente. Dall'alba si sono registrati lanci di razzi dalla striscia di Gaza e incursioni dell'aeronautica israeliana, reazioni che seguono i durissimi scontri avvenuti a Jenin in Cisgiordania dopo un raid dell'esercito israeliano che ha causato la morte di almeno 10 persone. Tre razzi sono stati lanciati da Gaza intorno alle 3.30 di venerdì mentre i jet israeliani hanno bombardato siti che si dice appartenessero al gruppo terroristico di Hamas come rappresaglia per l'attacco missilistico di ore prima. Migliaia di persone hanno partecipato a Jenin ai funerali delle vittime dei bombardamenti israeliani.